Sto scrivendo con l'aiuto di associazioni gay, lesbiche, di avvocati, di insegnanti. Approviamo insieme, velocemente, settimana prossima, gli articoli importanti di una legge importante che condanna e persegue ogni tipo di abuso, di violenza, di discriminazione, lasciando da parte quello che perfino la Santa Sede e il Santo Padre hanno indicato come problemi e punti critici e divisivi, quindi il gender nelle scuole, quindi i reati di opinione, quindi la censura della libertà di pensiero e di parola, lasciando che siano le famiglie a parlare ed educare i propri figli. E' un po' al buio in aula, che ne pensi? A me viene il dubbio che Letta voglia affossare la legge, che abbia usato le tematiche dei diritti civili delle ragazze e dei ragazzi che si amano per farne una battaglia ideologica a costo di arrivare al nulla, dopo mesi e mesi di lavoro, perché se va al voto così non va da nessuna parte.